Quella statale 16 tristemente nota per i continui assalti da Far West con dita di furti all'area di servizio IP nei presti di Carapelle. Almeno 8 negli ultimi due anni. Domenica scorsa l'ultimo caso, con tanto di spaccata ai danni del bar dell'area di sosta. Danni strutturali da 2.500 euro, bottino da 1.300, ma soprattutto tanta, tanta amarezza. Il signor Severio Giannetta, di 67 anni, titolare dell'area di servizio, non ce la fa più e lancia una proposta, come si legge dalle pagine di Foggia Today. Affiggerò uno striscione sul guardrail, dice l'anziano rammaricato, ma con la voglia ancora giovane di lanciare provocazioni. Caffè gratis per polizia e carabinieri, reciterà lo striscione, un modo indiretto per sentirsi meno solo, ma soprattutto più difeso.